Cosa rappresenta per voi Mido? Allora sicuramente Mido è una grande opportunità per avere dei nuovi contatti, incontrare nuove persone nell'ambito del nostro lavoro. È sicuramente la fiera internazionale dell'occhiale più importante, un evento unico e quindi non può che essere una grande occasione per farci conoscere e per mantenere costantemente i contatti con i clienti che abbiamo già acquisito in questi anni. E quali sono le novità che presentate qui? Allora quest'anno abbiamo deciso di proporre alcuni nuovi modelli che sono caratterizzati da colori particolarmente vivaci, spesso anche in contrapposizione con loro, ma soprattutto la grande novità è quella di aver creato una campagna pubblicitaria insieme alla grande Valentina De Chirico che è un'artista italiana molto molto brava e io lascerei un attimo la parola a lei per quanto riguarda questa nuova collaborazione. Io e Lara per questo progetto abbiamo pensato di unire i colori dei suoi occhiali ai colori dei miei quadri che come potete notare sono molto vivaci e con tonalità molto accese come i suoi occhiali. Infatti c'è stato uno studio, un grande studio da parte mia per l'accostamento appunto dei colori, dei visi, dei fiori e di tutto quello che c'è attorno a questi disegni per appunto accostarli allo studio dei suoi occhiali, del suo design e anche dei materiali con cui sono stati fatti i suoi occhiali. Cosa rende uniche le tue creazioni? Dal mio punto di vista credo che le mie creazioni siano particolarmente uniche per quanto riguarda il concetto di design che io ci tengo sempre a curare molto 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 dettagliatamente e per quanto riguarda anche l'accostamento dei colori, colori che a volte vengono accostati tra loro mantenendo le stesse sfumature, le stesse nuance di colori, mentre altre volte gioco con un netto contrasto di tonalità per rendere più forti e più vivaci. Grazie mille per essere state con noi, in bocca al lupo! Grazie!